Poi da quando filmi te continuano a fare farsi qualche... Si vede che lei mette sette persone... Guarda che attavi, buttati, buttati... Adesso è un cibo, lo vedi? E si che... In fuga subito con il 75 è stato Irohaki con... Apertura, metto giro, sei secondi e quattro. 8 e sette, un giro con Jack Werborn che risale. Distaccato il tedesco, 8 e 5 ancora, conferma. Si fa sotto, Jack Werborn. Sul... Giapponese, quando manca un giro, distaccati. Masson. E Werborn checa esterno. E serve per Werborn. Chiude con...